Ecco il pareggio Mauro. Sono tornati in parità Mauro. Ha raddoppiato il suo vantaggio Mauro. Che ne pensi? Era esattamente quello che non voleva, vero Mauro? Sono passati in vantaggio proprio all'inizio del secondo tempo. Un colpo di scena significativo Mauro. È un inizio di secondo tempo drammatico, vero Mauro? Hanno raddoppiato il loro vantaggio all'inizio del secondo tempo. Non hanno perso tempo per passare in vantaggio, vero Mauro? Sono riusciti finalmente a passare in vantaggio Mauro. Pensi che riusciranno a mantenerlo? Mauro, sono andati in vantaggio. Come pensi che si svilupperà il match adesso? Abbiamo atteso a lungo questo gol, vero Mauro? Non sembravano in difficoltà Mauro, ma fatto sta che adesso... Mauro, sono riusciti a rimontare. Sono avanti per via della regola dei gol segnati in trasferta. Adesso sono in vantaggio Mauro per via della regola dei gol segnati in trasferta. Hanno pareggiato il conto nelle due partite Mauro. Come finirà adesso? Hanno riequilibrato la situazione nelle due partite Mauro. Cosa manca ancora per vincere? Hanno pareggiato il conto, ma ancora adesso sono sotto. I gol in trasferta valgono doppio Mauro. Mauro, hanno pareggiato la situazione. Riusciranno a vincere? Ce la faranno a mantenere il vantaggio Mauro? Nel computo dei due match adesso sono in vantaggio Mauro. Pensi che ce la faranno? Nel computo totale delle due partite sono in vantaggio di due gol. Potrebbe essere il colpo di grazia? Stanno volando adesso. Fra andate e ritorno sono avanti di due gol. Hanno aumentato il loro vantaggio a tre gol adesso Mauro. Mauro, sono ampiamente in vantaggio di tre gol. Hanno un vantaggio rassicurante. Sembrano in totale controllo della partita. Vero Mauro? Sono sotto solo di un gol fra le due partite Mauro. Hanno ridotto lo svantaggio a un solo gol Mauro. Pensi che possano segnare ancora? Hanno recuperato un gol di svantaggio ma sono ancora sotto di uno fra andate e ritorno Mauro. Non cederanno senza prima aver combattuto. Vero Mauro? Hanno ridotto lo svantaggio di un gol ma hanno ancora molto da fare. Vero Mauro? Hanno ridotto lo svantaggio nel computo delle due partite a tre gol Mauro. Adesso stanno giocando soltanto per la loro dignità. Vero Mauro? Hanno ridotto il loro svantaggio di un gol Mauro ma rimane... Sono ancora in vantaggio ma soltanto di un gol Mauro. Mauro? Rimangono in vantaggio ma soltanto per via dei gol in trasferta. Mauro? Sono stati inchiodati al pareggio nelle due partite. Devono cercare di ritrovare la concentrazione Mauro. Hanno gettato via il loro vantaggio. Sono nei guai adesso. Stanno facendo i conti con... Devono segnare un gol oppure subiranno l'onta dell'umile... Sono avanti adesso di un solo gol fra andate e ritorno Mauro. La partita sta diventando una battaglia. Il loro vantaggio nel computo delle due partite è di un solo gol. Riusciranno a tenere? Sono adesso avanti soltanto di due gol tra andate e ritorno. Il loro vantaggio si è ridotto a due gol. Pensi che si faranno prendere dal nervosismo Mauro? Il loro vantaggio si è ridotto a tre gol Mauro. Sono ancora in una posizione di sicurezza. Nessuna paura. Hanno subito un gol ma non c'è grande differenza alla resa dei conti. Hanno ancora un margine rassicurante a dispetto del gol subito Mauro. Sono sotto adesso Mauro. Sono sotto di un gol considerando l'andata. Mauro, sono dietro. Pensi che riescano a recuperare il pareggio nelle due partite? Stanno lottando con il coltello fra i denti. Vero Mauro? Sono in grossi guai adesso Mauro. Riusciranno a risalire la china? Si stanno dando battaglia adesso. Vero Mauro? E' veramente imbarazzante ma almeno danno tutto quello che hanno in corpo. Sembrano fuori gioco Mauro. Sono tre gol sotto considerando la partita di andata. Sono in tilt. Hanno subito un altro gol Mauro. Sono completamente in stato di shock. Vero Mauro? Hanno segnato il primo gol ed è arrivato in un gran momento per loro. Hanno segnato quando manca pochissimo alla fine. Adesso sono i logici favoriti dell'incontro. Vero Mauro? Finalmente abbiamo un gol. Sono sotto di un gol a pochi minuti dalla fine Mauro. Cosa possono fare per cercare di recuperare? Hanno tentato di bloccare in qualche modo gli attacchi avversari ma alla fine hanno subito gol. Che ne dici Mauro? Hanno aperto le marcature. Come vedi la partita adesso Mauro? Hanno pareggiato. Questo potrebbe diventare interessante. Finale al cardiopalma adesso. Si potrebbe finire ai supplementari. Questo gol potrebbe decidere la partita perché non c'è molto da giocare. Vero Mauro? Hanno subito gol nel peggior momento possibile. Vero Mauro? Adesso difenderanno il vantaggio con tutte le loro forze. Vero Mauro? Hanno segnato il silver gol Mauro. Ma riusciranno a mantenere il vantaggio? Adesso hanno fatto un passo in avanti clamoroso Mauro. Riusciranno a difendere il vantaggio? Può essere il gol decisivo Mauro. Sicuramente questo sgomba nel campo da molti dubbi. Vero Mauro? Siamo sempre lì. Siamo tornati da dove eravamo partiti. Proprio quando la partita sembrava avviarsi alla fine ecco un altro colpo di scena. Questo match entusiasmante ha subito un'altra svolta. Davvero notevole. Non sanno mai quando si può abbassare la guardia. Vero Mauro? Non riescono a crederci. Proprio quando il match sembrava chiuso hanno subito il pareggio. Hanno segnato il primo gol dell'incontro. Come pensi che cambierà a questo punto il loro atteggiamento Mauro? Hanno aperto le marcature Mauro. Pensi che il loro approccio alla partita possa cambiare una volta in vantaggio? Che impatto pensi che abbia questo gol sulla partita Mauro? Mauro, adesso sono sotto di un gol. Cosa possono fare per rimediare? Hanno subito il primo gol Mauro. Come pensi che cambieranno i piani dell'allenatore Mauro? Sono in vantaggio. Questo gol permette loro di rilassarsi un po'. Vero Mauro? Hanno aperto le marcature. Pensi che adesso abbasseranno la saracinesca Mauro? Mauro, sono sotto di un gol. Se fossi nei panni dell'allenatore cosa faresti adesso? Pensi che questo gol possa aprire il gioco Mauro? Sono sotto soltanto di un gol Mauro. Ma non penso che saranno troppo felici di questo, vero? Hanno subito un gol Mauro. Quello che volevano. Beh, sono un po' in difficoltà adesso. Il gioco riprende. La parità è stata ristabilita adesso. Pensi che le sorti della partita potrebbero cambiare adesso Mauro? Il tabellone ci mostra che la gara è in parità adesso. Beh, l'allenatore si starà spremendo le meningi adesso. Dunque si sono fatti recuperare. Entrambe le squadre cercheranno di segnare rapidamente adesso. Hanno subito un gol. Vedremo se riusciranno a riprendersi. Tornare in vantaggio rapidamente sarà il primo dei loro pensieri Mauro. Ora è tutto in parità Mauro. Riusciranno a prendere le iniziative e a farne un altro? Ora tutto è tornato in parità. L'allenatore starà sicuramente sperando di segnare un altro gol Mauro. Pensi che continueranno ad attaccare? La squadra sarà sicuramente motivata da questa rete Mauro. La partita è riaperta adesso. Beh, i tifosi sicuramente sperano in un altro gol. Tutto in parità quindi. Per il momento la partita è apertissima. Dunque, il gioco riprende tutto in parità. Gli attaccanti riusciranno a ripetersi? Quello per cui stavano giocando. Di nuovo in parità. Sono tornati in parità adesso. Le due squadre sono di nuovo in equilibrio. Siamo tornati in parità. Il gioco si sta facendo appassionante. La più classica delle partite. Mauro, sono tornati in parità. Sono nuovamente a galla Mauro. Questo pareggio dovrebbe avere un impatto molto forte sulla partita. Vero Mauro? Mauro, hanno subito il pareggio. Come pensi che reagiranno i giocatori? Hanno subito il pareggio. Pensi ancora che abbiano le carte in regola per vincere? Mauro, sono tornati in parità. Sta diventando una partita davvero entusiasmante. Vero Mauro? Il punteggio è di nuovo in parità. Sono sotto di un gol adesso. Cosa devono fare da qui in avanti? Sono avanti di un gol. Riusciranno a mettere il naso avanti fino alla fine della partita? Sono avanti. Riusciranno a segnare ancora e a mettere al sicuro il risultato? Adesso devono fare qualcosa per rientrare in partita. Devono tornare in parità il più presto possibile. Devono riorganizzarsi per rientrare in partita. Riusciranno a tornare in partita da qui in avanti? Riusciranno a conquistare i tre punti? Questo gol sembra aver dato loro grande sicurezza. Sono passati in vantaggio. Vediamo se riusciranno a sfruttare la situazione. I giocatori sembrano galvanizzati dal gol segnato. Il gioco riprende con un solo gol di differenza fra le due squadre. Penso che l'allenatore speri di vederne un altro così. Beh, i tifosi sono letteralmente impazziti per questo gol. Ne vedranno presto un altro? Cambierà la partita adesso? Vediamo cosa succede. Assisteremo a qualche altra giocata spettacolare quando il gioco riprenderà? Solo un gol di vantaggio adesso. Riusciranno a farne altri? Solo un gol di vantaggio adesso. Penso che saranno determinati. Vediamo quanto il gol condizionerà la gara. Adesso c'è soltanto una rete di differenza fra loro. Hanno solo un gol di svantaggio. Riusciranno a riprendersi in fretta? Riusciranno a ripartire dopo questo gol? Hanno bisogno di cambiare marcia adesso. Penso che il portiere sia abbattuto. Sono sotto di un gol adesso. Mi chiedo se adesso l'allenatore effettuerà dei cambi. Sono in svantaggio di un gol. Solo una rete li separa adesso. Vorranno recuperare velocemente. Vedremo un atteggiamento più offensivo adesso? Non devono perdere il controllo della partita. Devono creare subito occasioni gol per rientrare in partita. Come reagiranno a questa mazzata? Potrebbe essere un momento pericoloso per loro. Saranno contrariati di aver subito questo gol. Sembra che abbiano il totale controllo della partita. Vero Mauro? Hai ragione. Se continuano così saranno presto irraggiungibili. Sono avanti di due gol. Questo dovrebbe dare loro una certa tranquillità. Vero Mauro? Beh, il vantaggio sembra confortante adesso Mauro. Con un vantaggio di due gol potranno dormire sonni tranquilli adesso. Pensi che assumeranno un atteggiamento più difensivo dopo questo vantaggio Mauro? Il gioco è ripreso nuovamente. Cercheranno di segnarne un altro? Sta diventando una partita eccezionale adesso. L'allenatore sarà raggiante Mauro. Fantastico. Stiamo assistendo ad una lezione di calcio. Credi che ci delizieranno ancora con questo calcio spettacolo Mauro? Beh, è un piacere vedere una squadra così in forma. Ti piace la partita fino adesso Mauro? Mauro, pensi che prenderanno fiato e diminuiranno il ritmo adesso? Sono sotto di due gol. Cosa fa in questi casi un allenatore Mauro? Credi che questa partita sia senso unico adesso Mauro? Forse ci sarà un ripensamento tattico adesso. Cosa ne dici Mauro? I giocatori dovranno compiere un'impresa adesso, non credi Mauro? Vedo qualche faccia triste tra gli spettatori Mauro. Qui sembra di assistere alla sfida tra Davide e Golia Mauro. Qualche possibilità di rimonta Mauro? Due gol di svantaggio. E adesso Mauro? Cosa ne dici di questo risultato Mauro? Sono indietro di due gol. Credi che sia colpa degli errori difensivi Mauro? Sono avanti di due gol. Sono sopra di due gol. Avanti di due gol. Hanno raddoppiato il loro vantaggio. Sono sotto ancora di più adesso. Non possono permettersi di subire altri gol. Due gol di differenza fra le due squadre adesso. Cambierà la disposizione tattica in campo? A questo punto il vantaggio sembra rassicurante. Questo vantaggio di due gol è una sicurezza per loro. Due gol li separano. Ne vedremo degli altri? I tifosi ci sperano di sicuro. Il margine di vantaggio aumenta due gol adesso. La partita sembra senso unico fino adesso. E il divario si allarga. Mi chiedo se il match non stia diventando senso unico. Un altro gol adesso. Il vantaggio diventa decisamente rassicurante. Che piega prenderà la partita adesso? Due gol già li separano. E vediamo come questo gol cambierà le sorti della partita. Non possono permettersi di mollare Mauro. Anche se sono in vantaggio di due gol. Sono avanti di due gol e il vantaggio è assolutamente meritato. Hanno due gol di vantaggio. Stanno lottando duramente. Vero Mauro? Mauro, sono sotto di due gol. Il vantaggio aumenta Mauro. Riusciranno a fermarli? Mauro, se fossi l'allenatore come gestiresti un vantaggio di due gol? Andare sotto di due gol, Mauro, non deve essere una situazione facile. C'è un gruppo di tifosi da quelle parti che sembra piuttosto abbattuto, Mauro. Stiamo assistendo ad una lezione di calcio oggi. Non credi, Mauro? Hanno un buon margine di vantaggio, Mauro. Qualche consiglio su come conservarlo? Con due gol di svantaggio recuperare è quasi un'impresa. Non credi? Beh, mi chiedo come il gol possa condizionare il gioco adesso. Come può una squadra risorgere dopo un doppio svantaggio, Mauro? Credi che questo gol cambi l'andamento della partita, Mauro? Sono sopra di tre gol. Questo li mette in una posizione di chiaro vantaggio. È come se dovesse lo scalare l'Everest. Con uno svantaggio simile, credo sia impossibile rientrare in partita. Lo svantaggio potrebbe aumentare. Sicuramente non c'è modo di recuperare per loro. Hanno messo al sicuro la partita adesso. Vero, Mauro? Adesso sono avanti di tre gol. Sicuramente questa partita è chiusa. Vero, Mauro? Mauro, devono tornare in partita. Ma come? Rischiano di subire una vera disfatta, Mauro. Cosa può fare l'allenatore per cambiare questa situazione? Hanno subito un gol e sono sotto adesso di tre reti. Certamente, stanno giocando in maniera divina. Mauro, tre gol fra le due squadre. La partita sembra finita. Adesso sono avanti di quattro gol. Sono avanti di quattro gol. Sta diventando una disfatta. Sono in una situazione di chiaro vantaggio, Mauro. Adesso è tutto più facile. Vero, Mauro? Sta diventando una partita a senso unico. Vero, Mauro? Hanno subito un altro gol. Mauro, che sta succedendo? Sono in tilt adesso. Hanno subito un altro gol, Mauro. Adesso hanno un vantaggio rassicurante. Il loro vantaggio sembra rassicurante. La vittoria sembra al sicuro. Sono stati troppo distratti in difesa oggi. La partita è diventata a senso unico. È una partita a senso unico. C'è soltanto una squadra in campo oggi. Sembrano disperati, vero, Mauro? È una partita a senso unico. Vero, Mauro? Mauro, sono tornati in vantaggio. Non penso che adesso cederanno facilmente. Si sono portati in vantaggio, Mauro. Pensi che possano mantenere questa situazione e vincere? Mauro, ma c'erano segnali di una loro rimonta così prepotente? Sembra che abbiano gettato via la partita, Mauro. Devono segnare due gol per vincere, Mauro. Sono crollati, Mauro. Pensi che riusciranno a rialzare la testa? Sono sotto soltanto di un gol adesso. Ancora un gol e torneranno in situazione di parità. Questo gol darà certamente nuove energie. Riusciranno a segnarne un altro? Penso che questo gol riapra la partita. Vedremo un pareggio? Hanno ridotto lo svantaggio. Riusciranno a sfruttare il momento favorevole? Il vantaggio è stato ridotto a una rete. Beh, il gol subito li ha riportati coi piedi per terra. Un segnale di appagamento, forse. Il vantaggio è stato ridotto. Stiamo per assistere ad un recupero? Il vantaggio rassicurante è andato perduto. Come reagiranno? Si sono avvicinati. Adesso sono sotto soltanto di un gol, Mauro. Pensi che riusciranno a pareggiare? Hanno ridotto lo svantaggio a un solo gol, Mauro. Sono sotto soltanto di un gol, Mauro. Pensi che questo cambierà le cose? Hanno ridotto il loro vantaggio a un misero gol, Mauro. Ce la faranno? Sono avanti solo di un gol adesso, Mauro. Pensi che si siano rilassati troppo presto? Hanno visto il loro vantaggio ridursi a un misero gol. Hai qualche idea su come dovrebbero comportarsi adesso? Beh, i tifosi sanno che il match è riaperto. Beh, è da mirare la loro tenacia nel cercare con insistenza il gol, non credi, Mauro? Un vantaggio ridotto in questo modo può mettere in difficoltà la squadra, vero, Mauro? La partita sta diventando più imprevedibile di quanto si potesse pensare, Mauro. Sono sotto di due gol adesso, Mauro. Pensi che possa essere l'inizio di una miracolosa rimonta? Mauro, adesso hanno ridotto lo svantaggio a soltanto due gol. Hanno ridotto il loro vantaggio a due gol, Mauro. Penso che non sia il caso di farsi prendere dal panico. Dunque, il gioco riprende, ma c'è ancora molto da fare per recuperare. Il morale si sarà risollevato con questo gol. Riusciranno ad approfittarne? Hanno recuperato un gol. Riusciranno a ripetersi? Questo gol li avrà preoccupati? Il loro vantaggio sembra meno sicuro adesso. L'allenatore sarà arrabbiatissimo per il gol subito. Adotterà una tattica più difensiva adesso? Credo che questo gol sia un campanello d'allarme. Si sono avvicinati, ma devono fare ancora molto per rientrare in partita. Hanno segnato il più classico dei gol di consolazione. Beh, hanno segnato, ma la strada per rientrare in partita è ancora lunghissima e hanno pochissime chance. Hanno subito gol, ma ne hanno ancora tre di vantaggio. Hanno ridotto lo svantaggio di un gol, ma non basta. Hanno segnato, ma c'è ancora molto da fare qui. Hanno ancora molto da fare per rientrare in partita, vero Mauro? Hanno segnato un gol, ma non c'è molto da festeggiare, vero Mauro? Hanno subito un gol, ma la situazione è ancora ampiamente sotto controllo, vero Mauro? Hanno subito un gol, ma non penso che ci siano grandi differenze rispetto a prima. Bene, hanno ridotto lo svantaggio. Pensi che possono avvicinarsi ulteriormente? Ridotto il divario fra le due squadre. Ha ripagato la fiducia del suo allenatore. Pensavi che il gol sarebbe arrivato proprio dal nuovo entrato? Non era nell'undici titolare, ma niente lo ha fermato e ha segnato. E' parso ispirato nel momento in cui è entrato in campo, vero Mauro? Siamo 1-0. Adesso vorranno tentare di mantenere questo importante vantaggio. Sono avanti di un gol. 1-0. 1-0. Sicuramente vorranno mantenere questo vantaggio. Siamo 1-0. Adesso cercheranno di pareggiare. Conducono di un gol adesso. 1-0. La partita è adesso sull'1-1. Un gol a testa in questo caso. Siamo 1-1. Un gol a testa fissa il punteggio sull'1-1. Sono stati segnati due gole. La partita è adesso sull'1-1. Un gol a testa e la partita è fissata sull'1-1. Siamo 2-0 adesso. Un vantaggio di due gol ora. Hanno adesso due gol di vantaggio. Siamo sul 2-0. Anche se siamo adesso sul 2-0, non possono certamente rilassarsi. Si trovano sotto di due gol adesso. 2-0. 2-0. Adesso hanno uno svantaggio di due reti. 2-1. Devono pensare a difendere il vantaggio in questo caso. Vantaggio minimo in questo caso. Siamo 2-1. Hanno un vantaggio minimo sul 2-1. 2-1 adesso. Solo un gol da recuperare però. Siamo 2-1. Sono sotto di un gol. 2 gol a testa. Perfetta parità. Adesso sono in parità. Siamo sul 2-2. 2-2 adesso. Entrambe le squadre cercheranno di segnare il terzo. Perfetta parità. 2-2. 2-2 e la partita adesso è in parità. 3-0. Penso che cercheranno di segnare ancora a questo punto. Siamo 3-0. Non vogliono proprio concedere nulla oggi. 3-0 adesso. Un vantaggio a dir poco rassicurante. 3-0 adesso. Sono sotto di tre gol. Non sembra proprio che riusciranno a rientrare in partita sul 3-0. Siamo 3-1 adesso. Un comodo vantaggio di due gol. 3-1. E adesso devono difendere il loro vantaggio. Due gol di vantaggio. Siamo sul 3-1. 3-1. Adesso sono sotto di due gol. Sotto di due gol. E adesso siamo 3-1. 3-2 adesso. Il vantaggio è minimo. Sono avanti di un gol adesso sul 3-2. Si trovano avanti di un gol sul 3-2 adesso. Sono sotto di un gol sul 3-2. Sono sotto di un gol adesso. 3-2. Che partita. Siamo 3-3. Un punteggio davvero imprevedibile qui. Siamo 3-3. Addirittura sei gol segnati oggi. 3 a testa. Abbiamo sei gol segnati qui e siamo tre pari. Uno spettacolare 3-3 oggi. Siamo 4-0 e sicuramente non potranno perdere questa partita. Siamo 4-0. Sono scatenati sotto porta quest'oggi. Siamo 4-0 e a questo punto sono lanciatissimi verso la vittoria. 4-0 a questo punto. Adesso devono soltanto sperare in un miracolo. 4-0 a questo punto. Adesso devono soltanto fare un po' di attenzione per portare a casa la vittoria. Hanno adesso tre gol di vantaggio sul 4-1. 4-1 sembra un vantaggio rassicurante ma non c'è spazio per un rilassamento. Tre gol di vantaggio adesso e siamo 4-1. 4-1 adesso. Potrebbero diventare irraggiungibili. Sul 4-1 non possiamo certo lamentarci per la mancanza di gol. 4-2 e sembrano poter andare in fuga adesso. Due gol di vantaggio sul 4-2. 4-2 ora. Due gol di vantaggio. Sono sotto di due gol sul 4-2. Devono recuperare due reti sul 4-2. 4-3. Dovrebbero cercare di segnarne un altro per essere a riparo da sorprese. Vantaggio minimo adesso sul 4-3. 4-3. Il minor vantaggio possibile in questo caso. 4-3. Adesso cercheranno di pareggiare. 4-3. Questa partita è davvero pazzesca. 4 gol segnati a testa. Ne vedremo altri? 8 gol segnati in totale. Adesso siamo in perfetta parità. 4-4. 4 pari adesso e potrebbe non essere finita qui. Un'incredibile grandinata di gol. 8. 4 a testa. 4 gol segnati a testa e la partita non è ancora finita. Siamo 5 a 0 e sembra che la vittoria a questo punto sia in tasca. Come dimostra il punteggio? Non hanno sbagliato praticamente nulla sotto porta. Siamo 5 a 0 e sembra quasi un allenamento oggi. 5 a 0. La domanda è se riusciranno a segnare per regalare una piccola gioia ai propri tifosi. Sono sotto di 5 gol ma riusciranno almeno a segnare 5 a 1 adesso. Sembra che abbiano in mano la partita. 5 a 1. Sembra una partita a senso unico. 5 a 1. Un vantaggio rassicurante. 5 a 1. Un vantaggio di 4 gol adesso. Un vantaggio di 4 gol adesso sul 5 a 1. Un vantaggio di 3 gol sul 5 a 2. Punteggio ora sul 5 a 2. 3 gol di vantaggio. 5 a 2. Saranno irraggiungibili adesso? Ci sono 3 gol di differenza fra loro. Siamo 5 a 2. 5 a 2. 3 gol di differenza fra loro. 5 a 3. Potrebbe sembrare un vantaggio rassicurante ma non possono in alcun modo rilassarsi. 5 a 3 adesso. Potrebbero allungare ancora. 5 a 3. Sicuramente cercheranno di andare in fuga adesso. 5 a 3. Sotto di 2. C'è una possibilità di rientrare in partita per loro sul 5 a 3? 5 a 4. Di sicuro adesso cercheranno di mantenere il vantaggio. Siamo 5 a 4 adesso. Sono avanti di 1. Conducono di un gol adesso. 5 a 4. 5 a 4. Saranno disperatamente alla ricerca del pareggio. Siamo 5 a 4. L'allenatore sta caricando i suoi perché ottengano il pareggio. 5 a 5. Non sembra esserci fine a questa grandinata di gol. Siamo 5 pari. Una meravigliosa prova di forza offensiva su entrambi i fronti. Un'incredibile festa di gol. Siamo 5 pari adesso. Perfetta parità adesso. Come finirà? 5 pari. L'atmosfera allo stadio è semplicemente incredibile. La passata indietro al portiere. Il portiere riceve il passaggio. Indietro al portiere. La gioca indietro al portiere. Passa indietro al portiere. Data indietro al portiere. Restituita al portiere. E passa la palla all'indietro. La ridà indietro. Gliela ridata. La vuole di nuovo. E la dà indietro. Di testa all'indietro. Un colpo di testa all'indietro. La restituisce al centro. La gioca nuovamente in mezzo. Gran tocco. Un bellissimo tocco qui. Bel tocco. Bel passaggio di prima. La dà di prima. Gran passaggio di prima. Gioca la palla di prima. Gran palla. La tocca di prima. La gioca dietro. La passa dietro. La restituisce dietro. La dà dietro. La tocca dietro. La mette dietro. La sposta all'indietro. La gioca all'indietro. La tocca all'indietro. Sceglie il passaggio all'indietro. Sceglie di ripartire da dietro. La gioca corta. È un passaggio corto. È un tocco corto. Passaggio corto. La passa corta. La tocca corta. Colpisce appena di testa. La colpisce piano di testa. Appoggia di testa. Colpisce di testa molto rapidamente. La manda al centro. La gioca in mezzo. In mezzo. La mette in mezzo. La posiziona al centro. La spedisce al centro. La mette al centro. La fa passare al centro. La tocca corta. La gioca al centro. La gioca sulla destra. La batte a destra. La sposta a destra. La sposta sulla destra. La gioca a destra. La manda sulla destra. Sulla destra. E adesso si spostano sulla destra. La passa a destra. Sposta il pallone sulla corsia a destra. La smista a destra. La tocca a destra. Giocata direttamente a sinistra. La sposta verso la fascia sinistra. La batte a sinistra. La sposta sulla sinistra. Passa la palla a sinistra. La gioca sulla sinistra. La mette a sinistra. A sinistra. E adesso prova a spostare il gioco a sinistra. La passa a sinistra. E adesso il gioco si sposta sulla corsia di sinistra. La smista a sinistra. La spinge in avanti. La fa viaggiare in avanti. La batte in avanti. Spinge il pallone in avanti. La sposta in avanti. La gioca in avanti. La lancia in avanti. La mette avanti. Gioca il pallone in avanti. La passa in avanti, la smista in avanti, la spinge su, lungo pallone in avanti, la lancia lunga, scegli il lancio lungo, lancia la palla in avanti, scegli un lungo lancio in avanti, la gioca su e la lancia in avanti, lungo passaggio in avanti, un lungo pallone in avanti, la giocata lunga, la spinge in avanti, battuta lunga, battuta in avanti, la batte lunga, la batte in avanti, gioca un lungo pallone sulla destra, lungo lancio sulla fascia destra, pallone lungo sulla destra, un pallone a cercare la fascia destra, la gioca sulla destra, un lungo lancio sulla destra, cerca un lungo lancio a cambiare gioco sulla destra, un lungo pallone sulla destra, la gioca bene sulla destra, la gioca sulla fascia sinistra, la battuta sulla sinistra, cambia gioco con un lungo lancio sulla sinistra, una palla a cercare un compagno smarcato sulla sinistra, giocata sulla sinistra, un lungo passaggio sulla sinistra, lancia lungo sulla fascia sinistra, un lungo pallone sulla sinistra, la gioca bene sulla sinistra, la mette sulla sinistra, cambia gioco da una fascia all'altra, sposta il gioco sulla fascia opposta e la palla viene spostata sulla fascia opposta sposta il gioco dall'altra parte del campo l'hanno ben giocata sull'altro lato del campo la gioca sulla fascia opposta e cambia gioco ha spostato bene il pallone da un lato all'altro del campo buon possesso palla cercano di aprire la difesa spostando il pallone sul lato opposto del campo ecco un perfetto esempio di come cambiare gioco senza troppi sforzi e raccoglie il lancio lungo il passaggio l'ha trovato pronto sul lato opposto del campo pescato con un lancio lungo e adesso ha la palla sulla fascia opposta il lavoratore infaticabile ha un'energia infinita impareggiabile rapido nelle accelerazioni quasi impossibile da fermare quando in velocità ha grande abilità nel mantenere il possesso palla anche se sotto pressione può essere molto difficile portargli via il pallone ha segnato un gol in questa partita due gol per mantenere la sua fama ha segnato una tripletta un contributo determinante alla squadra ha segnato il suo quarto gol e l'uomo del momento è scatenato che prestazione incredibile ha firmato un assist fino a questo momento ha firmato due assist oggi giusto per sottolineare la sua importanza nella squadra e la mente di questa squadra senza di lui non riuscirebbero certo ottenere questi risultati sta cercando di aprire la difesa verticalizza passaggio filtrante tenta di bucare la difesa passaggio che filtra cerca il passaggio in profondità tenta di scavalcare la difesa sta cercando di darla in profondità cerca di trovare gli spazi cerca un varco filtrante cerca spazio oltre la linea difensiva sta cercando di aprire la linea difensiva penso che adesso si apriranno alcuni spazi prova a metterla oltre la difesa cerca il passaggio filtrante ha trovato il varco giusto l'hanno pescato in modo perfetto sembra pericoloso hanno trovato rapidamente un varco gran palla dentro bella palla filtrante ce l'ha fatta verticalizzazione perfetta trova un compagno smarcato verticalizza in modo perfetto è libero al centro hanno tagliato in due la difesa hanno aperto in due la difesa con un gran passaggio filtrante mette fuori causa la difesa scavalca la difesa in modo perfetto è in mezzo è libero la difesa è stata messa fuori causa si sono liberati sulla fascia si sono liberati sulla corsia esterna c'è spazio sulla fascia hanno ancora molto da fare da questa posizione sono riusciti a scavalcare la linea difensiva c'è spazio sulla destra è libero sulla fascia destra è libero sulla destra questo potrebbe essere pericoloso si è catapultato sul passaggio filtrante possibilità per un cross adesso sta cercando di metterla al centro stanno cercando di avanzare sulla destra da lì possono metterla dentro si liberano sulla destra c'è spazio sulla sinistra è libero sulla sinistra si è liberato sulla sinistra questa palla filtrante potrebbe essere pericolosa è lanciato sul pallone filtrante c'è un'opportunità per un cross sta cercando un passaggio al centro stanno attaccando sulla sinistra adesso si liberano sulla sinistra questo passaggio aperto un varco sulla fascia sinistra beh ha pescato bene il compagno cosa farà adesso l'intelligente giocata innesca un'azione d'attacco sulla destra buon gioco di squadra qui trova l'uomo smarcato ottimamente innescato dal passaggio filtrante qui azione d'attacco sulla destra innescata dal passaggio filtrante la palla filtrante avvia l'azione offensiva ecco un attacco sulla destra il giocatore riceve in profondità e attacca dalla destra il passaggio filtrante ha creato scompiglio opportunità sulla destra qui dal pallone filtrante movimento sulla sinistra con questa palla filtrante e trova il giocatore nello spazio sulla sinistra questo mette sotto pressione la difesa sulla destra ottimazione d'attacco sulla sinistra beh la difesa non poteva far nulla su quel passaggio e hanno davvero cambiato passo sulla sinistra qui questo potrebbe essere pericoloso sulla sinistra la difesa sta lottando per fronteggiare questa incursione sulla sinistra tutto è nato dal passaggio filtrante dalla sinistra pericolo adesso sulla fascia sinistra il passaggio ha creato scompiglio nella difesa un passaggio filtrante apre la difesa e crea le premesse per un'azione d'attacco fantastica palla filtrante al centro situazione di pericolo movimento sul passaggio filtrante la palla filtrante aumenta la pressione sulla difesa il passaggio ha messo in crisi la difesa i difensori devono intervenire i difensori sono rimasti a guardare il pallone buon passaggio filtrante in mezzo trova l'uomo smarcato in mezzo che occasione qui ottimo movimento sulla palla opportunità per tirare in porta potrebbe tirare c'è spazio per tirare in porta ecco un'altra opportunità messa in area in area la può sicuramente mettere dentro adesso è nell'area di rigore adesso in area filtro in area di rigore ecco un'altra occasione nell'area riuscirà a trovare lo spazio di cui ha bisogno si trova in area grande pericolo eccolo in area di rigore cosa farà adesso c'è aria di gol qui ci potrebbe essere un'opportunità qui cosa inventerà adesso riuscirà a tirare a colpo sicuro eccolo in area metterà alla prova il portiere cosa si inventerà qui nell'area di rigore riuscirà a fare centro che combinerà adesso riuscirà ad andare a segno basta un po di spazio qui riuscirà a mettere alla prova il portiere cosa può fare qui farà centro può andare al tiro profumo di gol qui cosa farà qui avrà lo spazio in zona tiro può fare qualche passo in avanti qui cosa farà da questa posizione avrà lo spazio di cui ha bisogno tirerà cosa può fare da qui entra in area riuscirà a segnare ci sarà un gol ha bisogno di scaldare le mani al portiere adesso riuscirà a tenerla ce la farà a mantenere il controllo riuscirà a creare un pericolo qui entra in area di rigore sarà gol deve fare centro qui calcerà sarà gol qui qui è un gol in vista riuscirà a trovare lo spazio per tirare deve mettere alla prova il portiere qui centrerà il bersaglio grande chance qui riuscirà a trovare lo spazio che ne dici di questo troverà lo spazio zona pericolo possibilità in area troverà lo spazio per tirare riuscirà a creare qualcosa troverà lo spazio di cui ha bisogno il difensore è sceso in avanti per una sovrapposizione è sceso in avanti dalle retrovie per unirsi all'attacco oh ecco che arriva in avanti come un fulmine dalle retrovie oh ecco il difensore straordinaria discesa del difensore il difensore si sovrappone buona sovrapposizione buona sovrapposizione del difensore no intercettato no non questa volta non riescono ad intendersi no è stato intercettato il difensore l'ha intercettato no è stato reso inoffensivo il difensore è stato rapido a capirne le intenzioni proprio no buon intervento a spezzare la manovra ben spazzata intervento decisivo palla intercettata e tentativo d'attacco bloccato buon intercettamento e possesso palla recuperato stanno marcando stretto ottima scelta per intercettare il passaggio filtrante buona giocata buon intercettamento ma la palla finisce in calcio d'angolo passaggio filtrante non abbastanza preciso ma è corner vediamo se riescono a concretizzare il calcio d'angolo il passaggio filtrante è stato intercettato ma hanno concesso una rimessa è rimessa laterale la deviazione ha scongiurato il pericolo spazzata in fallo laterale buona giocata difensiva ma rischia di mettersi nei pasticci ottima scelta di tempo ma adesso deve passarla palla recuperata con un grande intervento ma adesso è nei guai troppo lungo il passaggio è fuori misura è uscito dal campo e sarà rimessa dal fondo nessuno può intercettare quel passaggio troppo lungo il pallone è terminato direttamente fuori per una rimessa dal fondo grande idea e la colpita in avanti verticalizza lancia alto pallone molto ambizioso lanciato in avanti può essere una possibilità chi riuscirà a raggiungere questo pallone la messa alta la lancia alta gran pallone alto prova il passaggio filtrante al centro questo pallone filtra in mezzo tenta di scavalcare la difesa gran lancio filtrante filtrante difesa tagliata in due filtra oltre la difesa scavalca la difesa lancio pennellato gran palla alta una meravigliosa palla alta filtra mezzaria gran pallone filtrante alto lancio filtrante un magnifico lancio filtrante lanciata dentro gran lancio meravigliosa palla oltre la difesa filtra tra le maglie della difesa i compagni corrono verso la palla dopo il lancio filtrante messa dentro assolutamente con un gran lancio pesca un compagno con un lancio perfetto difesa tagliato in due con un gran lancio filtrante pesca il suo compagno con un gran lancio filtrante astutamente taglia in due la difesa con un gran lancio corre sul pallone messo dentro con un gran lancio grande chance gran pallone che taglia in due la difesa passaggio filtrante intercettato e palla liberata il passaggio filtrante non ha avuto esito e la palla è stata spazzata un buon rinvio allontana il pericolo intercettato possesso palla perso passaggio in profondità impreciso e possesso di palla perso l'intervento liberare interrompe la loro azione offensiva tentativo riuscito di mettere la palla in calcio d'angolo possesso palla perso ma ora sarà corner respinto ma è corner il passaggio non ha raggiunto il compagno spazzata in fallo laterale fuori e rimessa buon intervento difensivo intervento d'applausi e rimessa laterale ottimo intervento ma deve fare attenzione adesso ottimo lavoro ora però deve passarla ha recuperato bene il possesso palla ma potrebbe riperderlo dai e vai aspetta il pallone di ritorno è pronto per l'uno due grande idea sta cercando l'uno due cerca l'uno due qui sembra che sia tentando un uno due vuole il pallone di ritorno la vuole di nuovo cerca il passaggio di ritorno un bel uno due ben fatto buona mossa combinazione stupenda grande scambio esecuzione perfetta grande combinazione bel passaggio pesca il compagno libero ce l'ha fatta la prende riceve il pallone la riceve la fa sua prende la palla fa sua la palla buon passaggio ha trovato il suo uomo ha trovato il suo compagno la controlla bene riceve un passaggio la controlla al meglio stoppa bene la palla controlla bene la palla la stoppa bene arriva a destinazione pescato dal suo compagno di squadra pescato perfettamente trova un compagno arriva a destinazione stavolta si inserisce nello spazio la riceve nell'unico spazio possibile bella palla in mezzo si incune nello spazio centralmente palla filtrante minacciosa taglia in due la difesa gran palla al centro una gran palla messa al centro la fa filtrare al centro lancio filtrante al centro palla filtrante assai pericolosa spedisce il pallone filtrante al centro che gran palla filtrante in mezzo bella palla filtrante in mezzo spedite in mezzo pallone filtrante in mezzo gran bel pallone in mezzo mette un gran pallone filtrante bella palla è già una minaccia gran palla dentro giocata intelligente messa dentro scavalcando la difesa mette un bel pallone filtrante ben messa dentro fantastico pallone filtrante magnifico passaggio filtrante sfrutta bene il varco esattamente in mezzo al reparto bella palla filtrante messa dentro che palla meravigliosa palla messa sfruttando il buco messa larga grande apertura messa larga nello spazio trova lo spazio lungo la fascia mette il pallone sulla fascia passaggio largo sulla fascia bella palla sulla fascia messa sulla fascia spedita sulla fascia bella palla filtrante sulla fascia stanno facendo semplicemente girare il pallone cercando di trovare un varco stanno facendo melina da più di un minuto stanno controllando il gioco stanno giocando semplice fanno viaggiare il pallone in modo molto convincente stanno facendo girare il pallone con grande proprietà di palleggio con meno di un minuto da giocare il risultato non dovrebbe essere in discussione ancora in possesso qui continuano a cercare un varco stanno ancora cercando un varco fra le maglie della difesa avversaria stanno giocando al gatto con il topo con la difesa avversaria stanno ancora cercando di trovare un varco stanno preparando un altro attacco qui sembrano fiduciosi in se stessi quando sono in possesso di palla sembrano felici di mantenere il possesso e il vantaggio sembrano soddisfatti di mantenere il possesso palla hanno un vantaggio rassicurante adesso è diventata una passeggiata nel parco a senso unico adesso sembra quasi una partita di allenamento sono ancora in gioco hanno una possibilità hanno ancora tempo per pareggiare il tempo sta scadendo e devono pareggiare riusciranno a centrare un'incredibile rimonta non sono molto legati fra loro nelle azioni d'attacco a dire il vero sono completamente e comprensibilmente chiusi i tifosi stanno già sfollando se c'è ancora una piccola possibilità di rimettere in piedi questa si sono sistemati adesso si limitano a controllare la pressione avversaria la partita non è ancora chiusa stanno ancora cercando una possibilità per recuperare hanno bisogno di un gol un gol in questo caso renderebbe le cose molto più interessanti hanno bisogno di penetrare in mezzo riusciranno a segnare questa volta riusciranno a penetrare in mezzo questa volta riusciranno a trovare un varco libero stanno facendo girare il pallone con pazienza in attesa di trovare il varco buono stanno spingendosi in avanti adesso che cosa hanno in serbo per noi adesso potrebbe essere questa giocata a farli tornare in partita non sembrano avere molta fretta in questo frangente la difesa si limita a controllare la palla non ci sono molte opzioni in avanti sembrano abbastanza soddisfatti di far girare il pallone nelle retrovie sembrano soddisfatti di mantenere il possesso palla sembra che stiano cercando un buco per costringere gli avversari a cedere bisogna chiedersi se sono realmente soddisfatti di come stanno andando le cose calcio basato sul possesso palla qui non hanno alcuna fretta di fare qualcosa in avanti sembrano soddisfatti di giocare d'attesa stanno mostrando grande pazienza nell'attendere il varco buono stanno mantenendo allerta la difesa stanno facendo girare il pallone senza badare al sottile quasi un torello adesso mantengono il possesso e attendono il momento giusto per attaccare non riescono ancora a trovare un varco nella difesa avversaria quando riusciranno a trovare il passaggio decisivo stanno lentamente faticosamente pensando a come costruire un'azione pericolosa qui sono abbastanza soddisfatti di giocare un calcio esclusivamente legato al possesso palla stanno semplicemente mantenendo il possesso palla si stanno assicurando di non perdere la palla più a lungo hanno la palla fra i piedi più si allontana la possibilità che gli avversari possano segnare continuano a far girare il pallone in attesa di trovare un varco non stanno lasciando la difesa la possibilità di avvicinarsi al pallone continuano a mantenere il possesso palla senza problemi ancora niente devono pazientare e cercare di mantenere il possesso palla i difensori non sembrano avere in mente nulla di particolare la difesa sembra soddisfatta di far girare semplicemente il pallone si passano il pallone sulla linea dei difensori respinta raccolta in zona pericolo riprende la respinta potrebbe tirare palla ripresa altro tiro in arrivo raccoglie la respinta tirerà potrebbe avere una grande chance da qui palla raccolta aria di gol qui raccoglie la respinta cosa farà stavolta respinta raccolta grande chance qui palla riconquistata altra chance qui respinta raccolta ancora pericolo raccoglie la respinta cerca un varco respinta raccolta ce la farà pallone recuperato ce la farà raccoglie la respinta ce la farà da qui respinta raccolta cerca un varco qui c'è l'opportunità per un contropiede stanno riversandosi in avanti rapidamente e ora c'è spazio per un contropiede grande possibilità per un contropiede buona fuga palla al piede ottimo gioco di gambe possibilità di contrattaccare in contropiede sono partiti in contropiede ottima possibilità per contrattaccare ecco una fuga in contropiede stanno macinando metri di campo e spostando in avanti il gioco il gioco si sposta in avanti e improvvisamente la difesa è costretta a rincorrere è il momento buono per spingersi in avanti questa è una grande occasione per un attacco in contropiede la difesa è sotto pressione adesso ecco un'occasione favorevole per partire in contropiede buon possesso palla durante il contrattacco si sono fiondati sul pallone aumentando la pressione la difesa deve rimanere incollata agli uomini adesso e adesso il gioco si spinge in avanti intercettato hanno intercettato il passaggio ha intuito la direzione del passaggio e l'ha intercettato buon intercettamento li hanno bloccati ha bloccato il passaggio bloccato ottimamente passaggio facilmente raccolto intercetta senza precisione passaggio intercettato il pericolo è passato bloccato molto bene ha letto bene l'azione passaggio non riuscito manca la precisione troppo scontato facilmente intuibile neanche per idea non ha raggiunto il suo compagno smarcato mal giocata doveva fare meglio impossibile sperare in un esito positivo ha letto perfettamente la situazione ha capito tutto ha fermato il passaggio in modo eccellente la rubata improvvisa chance qui opportunità per andare al tiro la rubata andrà al tiro opportunità qui troppo lungo oltre la linea laterale troppo lungo e completamente impossibile da raggiungere oltre la linea pessimo passaggio sprecato completamente fuori misura nessuno è in grado di raccogliere il passaggio l'ha colpita troppo forte fuori misura colpita in modo troppo violento ce l'ha fatta qui intercettata passaggio intercettato intercetta il passaggio rubata è sua potrebbe crearsi un'occasione qui la fa sua ce la può fare passaggio intercettato grande chance qui intercetta riuscirà a trovare spazio intercetta all'occasione per l'assist decisivo ruba il pallone passaggio intercettato e adesso l'azione si fa pericolosa intercettata possibilità in questo caso intercettata si crea una palla goal la intercetta grande chance qui raccolta qui grande chance ha capito il passaggio ce la farà la ruba che grande chance intercetta grande chance passaggio intercettato grande chance ce l'ha fatta e adesso ruba la palla grande chance intercettata grande chance per segnare pallone rubato grande chance ha capito il passaggio grande chance qui neutralizza il passaggio ce la può fare potrebbe creare un pericolo da qui passaggio intercettato riuscirà a servire l'assist decisivo la intercetta ce la farà passaggio capito opportunità per loro intercetta il passaggio pericolo allontanato ben capita intercettata era nel posto giusto per intercettarla pallone modesto intercettato intercettato bene grande tocco importantissimo palla senza pretese intercettata intercettato astutamente passaggio da dimenticare pessimo passaggio la letta benissimo perfetta scelta di tempo tocco senza precisione qui manca la precisione in questo passaggio sapeva esattamente dove posizionarsi ha mostrato grande qualità nella difesa in questa azione tentativo davvero disastroso eccellente difesa qui superba azione difensiva azione molto importante in questo caso passaggio mal destro passaggio sbagliato scelta perfetta ben compresa intercettata pessimo passaggio un passaggio davvero fuori misura qui ma che razza di passaggio è mai questo perfetto tempismo ed eccellente movimento sulla palla ha mostrato tutte le sue qualità in quest'azione difensiva non avete idea dell'importanza di quest'azione difensiva doveva farlo e l'ha fatto ha fatto tutto benissimo e ha recuperato il pallone perfetta scelta di tempo in area intervento decisivo nella propria area fantastica azione difensiva doveva recuperarla e lo ha fatto molto importante qui davvero importante quest'azione difensiva qui ottima azione difensiva grande entrata in area ha letto bene il gioco e ha recuperato la palla gran lavoro azione difensiva molto importante qui grande giocata difensiva ha interrotto l'attacco avversario fantastica giocata difensiva nella sua area e adesso portano la palla sulla destra e adesso cercano di trovare miglior fortuna sulla fascia destra hanno cambiato lato e adesso attaccano sulla sinistra e adesso portano palla sulla sinistra irresistibile dribbling sulla fascia destra corre con il pallone lungo la fascia destra sulla destra sulla linea laterale destra continua a correre lungo la fascia destra giù lungo la fascia destra giù lungo la corsia esterna destra irresistibile dribbling sulla fascia sinistra corre con il pallone lungo la fascia sinistra cerca spazio lungo la fascia sinistra sulla sinistra continua a correre lungo la fascia sinistra lungo la corsia esterna sinistra lungo la fascia sinistra giù lungo la corsia esterna sinistra gran corsa lungo la linea laterale sinistra porta palla lungo la fascia sinistra è ancora lanciato in corsa se ne va in perfetta solitudine scende centralmente porta palla centralmente si spinge in avanti e lanciato in uno scatto straordinario può farcela a mantenere questo ritmo improvviso break riuscirà a trovare un compagno smarcato sta cercando un uomo smarcato riuscirà a trovare il suo compagno in buona posizione non c'è grande assistenza è scatenato ha portato il pallone in avanti non è ancora finita sta cercando aiuto si guarda attorno in attesa di un compagno smarcato adesso si guarda attorno in attesa di un compagno smarcato sembra stanco sembra un po corto di benzina sta rallentando potrebbe aver speso tutte le proprie energie sta cercando di proseguire riesce a portarsi in avanti non sta trovando spazio qui non riesce a spingere in avanti mi chiedo davvero cosa spera di fare in questo modo sta attaccando dal lato destro dell'area di rigore scatta lungo la fascia destra vale la pena attaccare lungo la corsia esterna destra la corsia destra è un'opzione la corsia lungo la fascia destra è la sua opzione preferita sceglie di scendere sulla destra trova un compagno libero sulla corsia opposta c'è un uomo libero dall'altra parte del campo c'è un uomo libero sulla fascia sinistra ha una possibilità sulla sinistra ecco l'aiuto sulla sinistra ecco un compagno in arrivo la sua sinistra sta attaccando dal lato sinistro dell'area di rigore scatta lungo la fascia sinistra vale la pena attaccare lungo la corsia esterna sinistra sceglie di scendere sulla sinistra giù sulla sinistra prova ad avanzare sulla sinistra c'è un giocatore libero sulla fascia opposta un giocatore chiama palla sulla fascia opposta c'è un compagno sulla sua destra ha trovato un uomo libero sulla sua destra c'è un compagno in arrivo sulla sua destra un compagno in aiuto sulla sua destra è ancora in possesso palla è ancora in fase di avanzamento non si ferma ancora lui penetra nella metà campo avversaria ancora lanciato in corsa non dà alcun segno di cedimento nessuno lo ferma scatta in avanti irrompe in avanti taglia in mezzo qualcuno riuscirà a fermarlo straordinario scatto in dribbling gran gioco di gambe è velocissimo splendido gioco di gambe strepitoso controllo nello stretto ben controllata controlla benissimo stoppata la perfezione la messa giù ben messa giù gran controllo in questa circostanza stop di qualità in questa occasione gran controllo di palla la controlla benissimo splendido tocco addomestica la palla di petto controlla di petto la domestica di petto gran controllo di petto messa giù di petto ce l'ha ancora è in buona posizione qui possesso palla mantenuto altra chance la palla è ancora loro grande azione offensiva non è finita altra azione da gol qui tiene il pallone qui ancora in attacco ancora in possesso palla in ottima posizione qui ancora sulla palla ottima posizione per un attacco ancora in gioco grande chance qui ringhia sul pallone ancora una possibilità offensiva qui ancora in possesso palla può attaccare nuovamente possesso palla mantenuto e adesso è in zona tiro mantiene il possesso altro attacco qui ancora con la palla ottima posizione per tirare ancora sul pallone posizione interessante qui ha recuperato il pallone in ottima posizione non è finita avanzano ancora tiene il possesso palla in ottima posizione ancora in attacco qui ancora con il possesso palla in ottima posizione torna in possesso palla posizione interessante qui ha ancora la palla ancora in possesso palla qui non è finita qui ha fatto bene e ancora la palla è ancora in possesso del pallone possesso palla mantenuto qui pallone ancora in gioco ancora con la palla qui ha fatto bene ancora il pallone mantiene il possesso ancora con il pallone Gran lavoro per mantenere il possesso, ancora il possesso palla qui, ancora sul pallone qui, pallone ancora in gioco qui, gran lavoro per mantenere il possesso palla, possesso palla mantenuto qui, ben difesa qui, pallone mantenuto qui, ancora sulla palla qui, difesa pietosa, che occasione, troppo casuale qui, palla rubata, ha giochicchiato troppo con la palla, in attacco adesso, pessima difesa, persa, palla rubata, che occasione, si è preso la palla, difesa imbarazzante, palla recuperata, occasione qui, improvvisa opportunità, ma che difesa imbarazzante, possesso riguadagnato, che occasione, palla recuperata qui, rubata, troppo approssimativo, ruba la palla, improvviso attacco, l'ha riguadagnata in ottima posizione, palla persa, pessima difesa, recuperata, che occasione, sbandamento difensivo qui, palla rubata, cosa ha fatto, possesso perso qui, è nei guai, palla persa, che occasione, che difesa pessima, palla rubata qui, gran difesa qui, l'ha fermato molto bene, ha allontanato la minaccia, ha fermato benissimo l'attacco, ha fermato l'attacco, splendida difesa qui, attacco vanificato, ha lavorato benissimo con la palla, si è guadagnato la palla, gran difesa, ha fermato l'attaccante benissimo, ha mostrato tutte le sue qualità difensive qui, grande recupero, attacco annullato, capovolgimento di fronte qui, grande intervento e minaccia sventata, si è guadagnato il possesso per fermare l'attacco, palla guadagnata, gran difesa qui, conquistata la grande, minaccia sventata, sventa la minaccia magnificamente, possesso guadagnato, attacco sventato, ha fermato la minaccia qui, ha riconquistato la palla, palla riconquistata qui, riconquista il pallone, ottimo recupero qui, possesso palla riconquistato qui, grande intervento e pallone riconquistato, ha riconquistato il pallone in modo eccellente, ha perso il possesso palla, adesso la palla in suo possesso.